Filippo Pavicevic alla pivot della Givova Scafati, è un momento bello quello che sta attraversando la compagine gialloblu, tre vittorie di fila hanno migliorato sicuramente la posizione di classifica ma soprattutto portato il morale alle stelle. Certo, abbiamo vinto tre di fila, siamo veramente carichi, l'ultima era pure in trasferta che era importantissima, quindi siamo veramente carichi e sappiamo l'importanza di prossima partita che comunque in trasferta di nuovo in un campo caldo, quindi ci stiamo allenando, stiamo preparando per quello e abbiamo solo quello in mente. E adesso un'altra trasferta dopo la difficilissima trasferta di domenica scorsa accompagnerà il cammino della Givova Scafati, si andrà su un campo molto importante, un campo difficile, quello del palaestra di Siena, che partita sarà? Sarà sicuramente partita dura, è una squadra storica, è un campo, come già detto Caldo, sarà difficile e sicuro, noi dobbiamo fare un'altra partita bella in trasferta come le facciamo a casa. Quali sono le insidie di questa partita, quali sono i giocatori avversari da tenere in grande considerazione? Io conosco già due giocatori, Cepice e Radonic, che sicuramente dobbiamo fare attenzione, visto che arrivando tutte le notizie non sappiamo niente, però giocheranno, sicuramente l'Upsor, che dobbiamo fare tanta attenzione, però secondo me dobbiamo fare più attenzione alla squadra nostra e come facciamo noi le cose, quindi è solo quello, se facciamo noi bene, secondo me riusciamo tutto.